L'inchiesta è una forma particolare di racconto giornalistico, è scavo, è approfondimento, è indagine e la dignità delle persone, come stabilisce anche la carta di Assisi, è il primo passo di questa indagine, il primo gradino. Se non si compie questo non c'è tutto il resto. Spiegare e raccontare ai lettori qualcosa che non si sa e che non si saprebbe, non si verrebbe a scoprire senza il lavoro di un giornalista, è appunto un'operazione anche sul piano intellettuale molto sofisticata, che richiede grande cura e la prima cura rispetto della dignità delle persone.